Mettete avanti di un bel dì cioto di stare e ti vasi allai e ti vuoi un glace. Ma incincio produrre quel glace, era la roba cioto di un prodotto, incincio metto tutto insieme perché ti gusti il bain, verrassi in un'alga, mentre cioto di un cioto e fare la collina perfetta per sintesi cornetta. In quel momento l'ho famiglia di man e mangia, stossi non mangi tutto, è perfetto. E questo è quello che guarda i miei lavori, tutto va insieme, lo scelgo fino all'ultimo glace, se ti mangi e se il glace ti arricchia e se ti sei contento per il resto di te.